bentornati oggi abbiamo qui una grafica per una storia di instagram abbiamo una foto presa da 123rf quello che andiamo a fare oggi è che trasformiamo questa foto in una siluetta in bianco e nero andando a utilizzare i canali in particolare io qui vedo dai canali rgb rgb è la somma dei tre canali rosso verde blu se io vado a vederli separatamente mi accorgo subito che il blu è quello che ha il contrasto maggiore tra lo sfondo bianco e il camaleonte vado a isolare questo canale e lo duplico trascinandolo sopra l'apposita iconcina e quindi qui abbiamo un blu copia a questo punto premo command l e ho valori tonali sarebbe levels in inglese e quindi è rimasto command l il comando vado ad abbassare i neri fino a cercare di farli clippare il più possibile e mi rendo peraltro conto che qui nell'immagine c'è della sporcizia che vado a rimuovere aumentando i bianchi così dovrei aver raggiunto l'obiettivo quanto più possibile adesso con lo strumento lazzo vado a selezionare quello che non sono riuscito a prendere con lo strumento livelli e vado a riempire col nero precisione faccio anche i puntini ok in questo modo abbiamo ottenuto una selezione in due colori fondamentalmente è un canale binario un canale alfa abbiamo solo bianchi o solo neri a questo punto io tengo premuto command sopra l'icona del livello blu copia e così ho selezionato i bianchi ora posso spegnere questa copia e riaprire il mio livello a questo punto potrei andare a rifinire la selezione perché sarà ovviamente un po' frastagliata per cui vado a dargli un pixel di margine e vado ad aumentare il contrasto dandogli anche una lisciatina in maniera tale che venga il più non il più fedele ma il più morbido possibile a questo punto io avendo selezionato i bianchi vado a invertire la selezione e a questo punto apro un livello tinta unita è già riempito col nero perfetto questo è il livello che abbiamo creato a questo punto io seleziono quest'area bianca che non voglio la riempio col nero vado a invertire la selezione no ok l'ho invertita per sbaglio perché ero in modalità visualizzazione quindi la rinverto era giusta prima e qui ho ottenuto la silhouette perfetta del mio camaleonte a questo punto faccio capire qual era lo scopo di questa grafica capite subito lo scopo era questo che animale è questo e prima lo fai vedere con la silhouette e poi dai la risposta un giochino simpatico